Salve, sono Fabio Centurioni, fondatore del sito contributiregione.it Hai un'idea e vuoi aprire un'attività? La prima domanda che tutti mi chiedono è C'è la possibilità di ottenere un fondo perduto per finanziare la mia idea? Oppure sono costretto a chiedere finanziamenti in banca e magari anche a ipotecare la casa? Beh, questo è il posto giusto dove puoi ottenere le risposte che cerchi Perché potreste avere bisogno di me? Purtroppo non esiste un distributore di contributi dove ti puoi recare a fare il pieno Sarebbe troppo facile, soprattutto in Italia dove si complica un po' tutto Possiamo definire la giugna dei bandi Trovarne uno è come trovare un ago in un pagliaio Perché penso che tu possa avere bisogno di me? Te lo dico subito Perché dopo alcune ore o giorni alla ricerca del bando perduto Potresti sicuramente avere un senso di sconforto e frustrazione Ed io ti posso semplificare la vita Puoi continuare a navigare sui siti di informazione per giorni e giorni E questo lo puoi vedere provando tu stesso Entra ad esempio nel sito web della tua regione e vedi se riesci a trovare il finanziamento giusto al tuo progetto Anche quando fossi così fortunato ad aver trovato un bando Subito dopo ti chiederai Ma me lo finanzieranno il mio progetto? Basteranno i fondi o avrò perso solamente del tempo prezioso a compilare un lungo business plan Che viene scartato fin dall'inizio Come dici? Andrai dal tuo commercialista o consulente del lavoro? Certo, fai sicuramente bene Anzi, è una delle prime cose che devi fare Noi infatti, mio staff ed io, collaboriamo con i professionisti Perché, come avrai modo di notare Non riescono a stare aggiornati sui numerosi bandi che vengono pubblicati Dopotutto il loro mestiere è diverso Sono specializzati nella consulenza contabile e fiscale Inoltre i bandi non sono facilmente individuabili Spesso non vengono pubblicizzati O sono di difficile interpretazione Devi sapere che ogni anno tantissimi bandi vengono scartati o vengono trascurati E ti sto parlando anche di bandi che hanno finanziamenti a fondo perduto Contributi a fondo perduto fino al 50% Inoltre potrai ottenere numerosi altri benefici C'è una guida dei beni agevolabili che puoi scaricare gratuitamente Inserendo una mail sul form di questa pagina Ebbene, compili il modulo che ti arriverà per email e rispediscimelo In base alle informazioni sintetiche del tuo progetto Ricercherò il bando per te Lo selezionerò, lo adatterò al tuo progetto In seguito ti aiuterò a calcolare il contributo a fondo perduto E a predisporre il piano per ottenere l'agevolazione Ti posso garantire che in 7 anni di esperienza Ho aiutato già centinaia di piccole e medie imprese Ad ottenere questi finanziamenti agevolati Con contributi che sono arrivati spesso oltre il 50% fondo perduto Se non sai la definizione esatta di fondo perduto Te la chiarisco subito Sono dei prestiti che arrivano da un ente pubblico Che può essere la tua regione, la provincia, nazionali Sono comunque fondi europei Che non devono essere restituiti E' questo il grosso vantaggio che non puoi permetterti di trascurare Se vuoi realizzare la tua impresa Bene, per concludere Se vuoi un aiuto da me ti riassumo quello che dovresti fare Inserisci la mail sul form che trovi in questa pagina Riceverai nella tua casella un piccolo modulo con l'elenco dei beni agevolabili Seleziona quelli che serviranno al tuo progetto Guarda i video pratici sul blog per capire al volo come compilarlo Invialo alla mia casella di posta Ti assicuro che entro uno o al massimo due giorni lavorativi Il mio staff ed io sapremo trovare la risposta giusta E sapremo indicarti se c'è un finanziamento, un contributo Per realizzare il tuo progetto o la tua idea di impresa Avremo sicuramente modo di approfondire la nostra conoscenza Nei prossimi filmati Per il momento è tutto Ti ricordo solamente di non perdere i video tutorial Che puoi trovare sul blog Ti aiuteranno sicuramente a compilare il modulo pratico dei beni agevolabili Innanzitutto ti voglio fare in bocca al lupo per la tua attività Grazie per aver guardato questo video Sono Fabio Centurioni A presto